via claudio monteverdi a due passi della stazione ferroviaria e vicino a tutti i servizi di prima necessità vi proponiamo l'acquisto di un secondo piano un appartamento di 106 metri quadri circa oltre cantina di proprietà al piano terra e posto auto libero all'interno della corte condominiale questa che state vedendo la terza camera la cameretta la più piccola che ha affaccio sul giardino e corte condominiale che è fornita dei due ingressi carrabili questa stanza può fungere da soggiorno sarà da pranzo a faccio sul balcone più grande di balconi ce ne sono due c'è questo più ampio e poi l'altro nella cucina l'immobile da ristrutturare questo è l'ingresso qui abbiamo una cucina abitabile considerate che parliamo di un palazzo in cemento armato quindi comunque a livello interno c'è la possibilità di fare modifiche a proprio piacimento il balcone della cucina faccia su via grado monteverdi ritorniamo nel corridoio e andiamo verso le due camere da letto matrimoniali e il bagno grazie a tutti grazie a tutti